Cari compagni e cari compagni, vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio il dirigente scolastico professor Francesco Ursi per l'ospitalità. Con il professor Ursi collaboriamo da tempo e quest'anno con le classi del quarto anno del primo ciclo scolastico... Hauser, una grande rete che guarda al futuro, conferenza di organizzazione territoriale qui a Taranto presso la Scuola Europa. Siamo con la Presidente, la dottoressa Lina Arpaia. È un po' il momento di incontrarsi, di puntualizzare il proseguo del lavoro, di programmare. Una realtà, quella dell'hauser, che lavora appunto in rete. Siamo una grande rete, il titolo della conferenza territoriale che è stata preceduta da quella regionale e da quella nazionale. Una grande rete che guarda al futuro. A livello nazionale siamo una grande rete con 1.334 sedi sparsi su tutto il territorio nazionale e facciamo rete perché siamo, diciamo, in nostra prassi metterci sempre insieme su dei contenuti. Infatti attuiamo dei progetti a livello nazionale con il coinvolgimento di tutte le hauser regionali. Noi dell'hauser di Taranto abbiamo partecipato a due progetti nazionali socialmente, cioè sull'apprendimento permanente. Cioè è stata una bella esperienza che abbiamo fatto unitamente a tutte le altre hauser nazionali. Oggi è una giornata molto importante perché facciamo il punto della situazione rispetto all'ultima conferenza di organizzazione. Allora abbiamo assunto come principio fondamentale la persona e il territorio. In tutti questi anni abbiamo lavorato sul territorio con le nostre specificità e tenendo conto delle esigenze delle persone per tutte le età. Cioè per noi dell'hauser le persone devono essere soggetti di diritto in tutte le età sino all'ultimo giorno della loro vita. Per questo noi ci battiamo perché i servizi devono essere garantiti a tutti, i servizi devono essere universali e noi con il nostro agire quotidiano dobbiamo integrare quello che il pubblico fa, non ci dobbiamo mai sostituire. Noi attuiamo l'assistenza leggera che è molto importante. Pensiamo ai tanti anziani che quotidianamente noi aiutiamo e sosteniamo, dalla consegna del farmaco alle visite a domicilio, all'accompagnamento protetto, alla telefonia sociale. Possono sembrare ad alcuni gesti di poco conto, però per l'anziano che vive solo sono gesti importantissimi. Guardiamo al futuro perché c'è bisogno dell'hauser. Noi viviamo in una situazione un po' particolare. Si genera un po' di paura anche da parte di chi dovrebbe suggerire essere ad esempio per la tranquillità dei cittadini. Viene generata molta paura con i loro modi di fare nei confronti del diverso. Invece noi dobbiamo essere accoglienti, non dobbiamo avere paura degli altri soggetti, soprattutto se costoro sono in difficoltà. Quindi il nostro impegno è quello dell'inclusione, è quello di essere presente sempre sul territorio con le tante iniziative che quotidianamente facciamo. Oggi è ancora più importante perché con la riforma del terzo settore, che è stata approvata l'anno scorso, le associazioni di volontariato hanno degli obblighi, degli obblighi che sono molto stringenti, quello dell'adeguamento dello statuto alle nuove regole previste nel codice del terzo settore. Quindi noi oggi, tra l'altro, oltre a discutere dell'hauser in generale, abbiamo l'obbligo di, e quindi dobbiamo, approvare le modifiche ai nostri statuti. Lo statuto per l'associazione di promozione sociale e lo statuto per l'associazione di volontariato. Perché noi come Hauser siamo volontariato, la maggior parte, però siamo anche di promozione sociale. Cosa ci impone ancora la legge? Noi questo lo facciamo già da diversi anni. Quello della trasparenza. Essere trasparenti sia dal punto di vista proprio della tenuta dei registri sociali, dei conti, ma trasparenti in tutto. Noi abbiamo una piattaforma informatica e abbiamo inserito già tutti i nostri soci provinciali, tutti i nostri soci a livello provinciale, che sono 2.500 su tutto il territorio provinciale, con 13 sedi. L'ultima ad essere inserita, ad aprire, ad attivarla, è stata dall'hauser di Sava. Noi ci auguriamo anche in futuro di aprirne altri. Quindi essere trasparenti, dar conto di quello che facciamo, informare sempre i nostri soci, e questi con la piattaforma informatica è di molto aiuto. Quindi già lo facciamo e dobbiamo continuare a farlo. Quindi adempiento agli obblighi della riforma del terzo settore. L'altro aspetto della riforma del terzo settore è quella dell'obbligatorietà della redazione del bilancio sociale. Cioè ai numeri, alle cifre, quindi far corrispondere le azioni che noi facciamo. Quindi l'hauser già in questo è attrizzata a livello nazionale, perché a livello nazionale già il bilancio sociale viene fatto, però lo dobbiamo fare anche noi, deve essere un obbligo, è un obbligo, però deve diventare un piacere, perché ai cittadini, ai nostri soci, noi dobbiamo anche rendere conto di quello che facciamo. I nostri soci e i volontari, cioè quindi sono per l'hauser, la ninfa, cioè sono proprio la forza, perché se non ci sono i volontari e non ci sono i soci, non può esserci l'hauser. Quindi i volontari vanno valorizzati, vanno sostenuti, e oggi come oggi, con la riforma del terzo settore, i volontari devono essere, oltre a donare il proprio tempo, devono essere anche competenti, competenti, cioè nel senso che devono conoscere in quale ambito anche legislativo operano. La sua esperienza presso l'hauser, siamo qui con due signore che, come dire, sono le veterane dell'hauser. Parliamo di questa sua esperienza. Lei fino a un anno fa è stata anche volontaria. Ecco, io lo sono ancora col cervello, però fisicamente tengo 87 anni, sono cieca, vedo poco di qua, e naturalmente per l'età non sono più in condizioni di aiutare, però collaboro ancora nel minimo del possibile. Ecco, abbiamo... Ho portato uno dei miei diari che parlo da quando ho conosciuto l'hauser, cioè con tutte le sue... Quello che ho imparato dall'hauser e che ho ricevuto e ho dato pure io. Un'altra rappresentante storica dell'hauser? La più vecchia di tutti, perché io ho fatto volontario, che abbiamo... siamo andati tutti a fare il volontariato e sono stato fino a poco, quando ho compiuto gli 80 anni, non sono andata più. Adesso ce ne ho 97, quindi siamo un po'... 93-97. Quindi siamo un po' più. Ringrazio il signore, sto bene, non ho bisogno di nessuno, però se è sempre l'hauser, vengo sempre. Giovanni Angelini, segretario provinciale dello SPI CGL, l'ospice CGL è una realtà, è stata una realtà fondatrice dell'hauser. Parliamo di queste esperienze per gli anziani, a favore degli anziani. Senza dubbio l'hauser è uno strumento attivo sul territorio. Noi, attraverso la conferenza di organizzazione che fa la CGL e le sue categorie, è quella che stava svolgendo oggi e in tutta la nazione, in tutta Italia, l'hauser sta facendo le sue conferenze di organizzazione. Perché vengono fatte queste cose? Proprio per adeguare le nostre strutture alla realtà che si modifica in continuazione. Quindi dobbiamo rispondere ai bisogni delle persone. Noi dal punto di vista sindacale, la tutela delle pensioni, dei diritti. L'hauser è uno strumento voluto dallo SPI e dalla CGL proprio per creare quelle condizioni di aggregare persone nella loro totalità, non soltanto quelli iscritti alla CGL. Quindi io mi auguro che attraverso questa conferenza noi riusciamo a dare una risposta alle persone che sono in una situazione di grande difficoltà. Vediamo una grande organizzazione dell'hauser, una grande operatività, però ci sono davvero tante persone che dietro le quinte davvero danno un enorme contributo. Ecco un rappresentante, lui fa del servizio civile, Francesco De Pace. Parliamo di questa tua esperienza. Io ho scelto questo percorso perché mi sembrava davvero un'esperienza che potesse formarmi anche inizialmente come una prima prova per affacciarmi al mondo del lavoro. In tutto questo ho scoperto veramente una realtà che non conoscevo. Non pensavo che questa organizzazione fosse così estesa e soprattutto tutto quello che questi volontari, queste associazioni compiono in questo circolo. E quindi sono anche felice di essere entrato in questa realtà e di poter dare il mio contributo anche e nonostante tutto apprendendo per il mio futuro avvenire. Lucia Scarafile, presidente Auser regionale, un ruolo importante perché si tratta di coordinare le varie attività dell'Auser appunto nelle città della regione Puglia. Taranto è una realtà, è una realtà l'Auser a Taranto, è una realtà davvero all'avanguardia, oserei dire, tante iniziative, un calendario molto ricco, una grande partecipazione. Un Auser che deve dare risposte sempre maggiori agli utenti, ai cittadini, ai volontari perché in molti casi bisogna purtroppo supplire alle carenze istituzionali. Noi ci rifiutiamo di supplire perché il nostro compito non è quello di integrare. Dicevo, di fatto ci si trova a dover colmare il vuoto. Esatto, è proprio quello che ci tenevo a sottolineare, non perché non perché rimaniamo indifferenti, perché non si può rimanere indifferenti rispetto al bisogno che cresce, soprattutto nelle regioni meridionali, e quindi è bene, come dire, che ci sia chi si occupa degli ultimi, delle persone che soffrono. però noi lo vogliamo fare in collaborazione prima di tutto con i comuni che hanno il primo impatto e poi creando delle reti con altre associazioni, con scuole, con tutto il mondo che, diciamo così, può collaborare. ovviamente non dimentichiamo il sindacato perché noi proveniamo da una grande organizzazione, non ne siamo affatto pentiti dopo 30 anni e quindi che cosa possiamo fare? Possiamo offrire a questa grande organizzazione che è la CGL come dire un contenuto di persone di quello che hanno bisogno perché alla nostra azione diciamo di integrazione si unisca la rivendicazione perché non è che possiamo fare tutto noi però il sindacato può come dire svolgere un ruolo di contrattazione e di rivendicazione importante. Mimba Peluso Vice Presidente dell'Hauser Territoriale di Taranto nonché Presidente del Circolo Hauser Tamburi parliamo di questa sua esperienza come è nato è nato questo amore? Allora l'amore per l'Hauser è nato tantissimi anni fa ero molto più giovane e man mano che sono diventata più adulta l'amore cresce ancora di più ma cresce per quanto riguarda vedendo le difficoltà umane difficoltà di tutto ambiente di tutto del nostro quartiere di Taranto e vedendo queste cose il cuore ci si apre per tutte queste persone disagiate.